Allora, siamo qui con Gianluigi Magia che sta dipingendo qui al parco di Gianni Argiolas. Come mai hai scelto questo sito scultoreo di Gianni, Gigi? La simpatia per l'asinello. Ho voluto un po' rendere quest'opera di Gianni un po' simpatica, ho visto che comunque siamo all'interno di un sito sulla guerra, giusto? Sì. Qua ci sono le trincee, insomma, dalla guerra tu hai voluto romanzare qualcosa più delicatamente, no? Non hai preso come soggetto quello della guerra, ma anche come personaggio, che comunque, come vedete, l'arma addosso, ho cercato un po' di... Ha riposto il fucile nel suo bagaglio, questo asinello, no? Questo è il fucile, non è l'unica cosa rimasta. Bello, complimenti. Grazie. Andiamo invece a salutare Luigi Zara, che si è nascosto qui dietro a dipingere e sta dipingendo con l'acquerello, giusto Luigi? Sì. Cosa hai scelto di dipingere tu? La natura? La lapinetta, sì, sì. C'è un'interessata, un'altra interessante che ti intriga. E guarda che bello, è fantastico, siamo proprio immersi nella natura qua. Qui mi sto cimentando con l'acquerello. È un lavoro molto certosino, giusto? Sì, è piaciuto, rendere il tronco delfino lo si può fare solo cercando di imitare le fessure, i tracchelet della corteccia. Sì, molto bello. Complimenti Luigi. L'hai fatto completamente in acquerello? Sì, sì. Tutto acquerello. Buon lavoro e grazie. Grazie. Grazie.